Buongiorno a tutti, nel video di oggi proseguiamo nella lettura del diario di Ugo Cavallero che abbiamo in questo periodo un po' trascurato, ma ovviamente per una buona ragione, ossia per andare a tratteggiare giorno dopo giorno le vicende tra il 25 luglio e l'8 settembre, le vicende di Cefalonia, una serie di importanti appuntamenti che in qualche modo ci hanno reso più comprensibile, se si può dire così, quello che è accaduto nell'estate del 1943, esattamente 80 anni fa. Da domani poi ricominceremo con altri aspetti, con l'analisi di quello che accadde a Brindisi, in qualche modo già abbiamo avuto un po' sentore di come principalmente Badoglio tenta, in maniera anche maldestra, possiamo onestamente dirlo, cerca degli abboccamenti con gli angloamericani, adesso che la situazione si è tranquillizzata a livello istituzionale, ormai il re è salvo, il governo è salvo e si può in qualche modo intavolare una nuova prospettiva, una prospettiva che sappiamo essere assolutamente velleitaria, gli angloamericani non avrebbero mai fatto sconti agli italiani e quindi in qualche modo il tentativo di Badoglio e compagni di trovare delle captazio benevolensie saranno abbastanza goffi fino a quando non vi sarà il passaggio per le forche gaudine dell'attività progressiva delle forze armate italiane, quindi un processo che sicuramente poi andremo anche ad analizzare attraverso l'analisi del primo raggruppamento motorizzato, del corpo di liberazione, dei gruppi di combattimento, ma ovviamente sarà un discorso che faremo nel lungo periodo fino ad arrivare al 25 aprile del 2025, pensate un po' che in qualche modo ci accompagna per un anno e mezzo. Dicevamo, facciamo un passo indietro, torniamo a parlare di Cavallero con l'11 settembre 1941, abbiamo lasciato con una situazione particolarmente difficile nei Balcani, nel Mediterraneo, in Africa settentrionale, con una serie di dinamiche assai complesse, che hanno delle prospettive, ma non delle prospettive che bisogna saper cogliere, bisogna saper cogliere anche nei rischi, nei profondi rischi che esistono, soprattutto nei rapporti con i tedeschi e soprattutto nei rapporti che vi è all'interno di una guerra sempre più globale, una guerra che in qualche modo ha trovato per il momento lo sbocco principale verso l'Unione Sovietica, e vada a sé che gli stessi tedeschi non hanno grandi interessi per il Mediterraneo, chiusa un po' la partita balcanica, tutto quello che rimane è assai poco appetibile per l'economia della guerra, vista da Berlino. Dicevavo, 11 settembre 1941, ricevo il colonnello Ame, che all'epoca era il capo del Sim, argomenti, situazioni a Nord Africa, preparativi di vasto raggio senza pretesa di realizzare la sorpresa, scalo degli aerei nemici a Malta, aumento delle forze a Malta, controspianaggio a Napoli, quindi argomenti vari, in qualche modo possono essere anche di interesse a livello generale. Ricevo il generale Forriintelen, addetto militare tedesco a Roma. Egli mi rappresenta la valutazione della situazione attuale che è stata fatta dal comando della Panzergruppe Africa e che è stata presentata al comando supremo italiano delle forze armate in Africa settentrionale. Quindi è il perenne rapporto conflittuale tra Rommel e Garibaldi prima, poi Bastico, eccetera. Quindi è una dinamica veramente complessa che ci porteremo avanti per mesi e mesi, quindi fino al maggio del 43, che però già abbiamo analizzato, avendo fatto una sorta di gioco alla Pulp Fiction che abbiamo recuperato, è quello che non avevamo visto all'inizio. Come il generale Rommel ha segnalato telegraficamente, il generale Bastico ha toccato nella sua risposta i seguenti punti. Vediamo, punto primo, il generale Bastico ritiene impossibile un ulteriore aumento di trasporti. Due, egli ritiene inopportuno l'impiego di una divisione motorizzata per l'offensiva contro Tobruk. Tre, il generale Bastico è del parere che per fronteggiare l'offensiva contro Tobruk, contro un'eventuale minaccia nemica dalla direzione dell'Egitto, sul fronte di Solum, devono essere tenute in approntamento una divisione corazzata tedesca, una divisione corazzata italiana e due divisioni motorizzate italiane. Concludendo, il generale Bastico comunica che gli ritiene possibile ricontinuare l'offensiva contro l'Egitto anche senza precedente presa di Tobruk e chiede se si possono avere per la data dell'attacco la Livorno e la Piave che però Rommel non ritiene indispensabili. chiarisce che i problemi sono due, mezzi e forze. L'idea del Duce è prendere prima Tobruk, occorre conoscere date per cui occorrono i mezzi. Quindi capiamo bene come già Bastico è arrivato da poche settimane e già entra in conflitto con Rommel e capiamo bene come nello scontro tattico e strategico tra Bastico e Rommel non può che preparare Rommel per gli ovvi motivi, non solo di caratura all'interno dell'economia della guerra ma anche per il fatto che la Germania è il socio di maggioranza dell'alleanza. Quindi in qualche modo non è che le cose si passano per Roma, passano semmai per Berlino. Telefono all'Eccellenza Santoro informando che approvo ordine e azione su Malta notte sul 12, che occorre anche azione per la notte sul 13. 12 settembre alle 9 dicevo l'Eccellenza Galbiati, che è appunto il vertice della milizia. Egli mi rappresenta che in questi primi 15 mesi di guerra la milizia ha mobilitato ed impiegato 197 battaglioni con una forza complessiva di 112.000 camicie nere. Di essi sono completamente perduti o da ritenersi tali 24 battaglioni in Africa settentrionale, 30 battaglioni in Africa orientale, dei quali 12 ancora impiegati nella difesa di Gondar, 27 battaglioni sul fronte greco-albanese, 20 battaglioni di complementi immessi durante la campagna nelle rispettive legioni per ripianare gli organici e 7 battaglioni risciolti in seguito a contrazione di legioni ridotte alla forza numerica di un battaglione. Quindi in qualche modo vediamo che per una serie di motivi che possono essere operativi, organizzativi o di altra natura anche quella sorta di tesoretto ideologico che rappresentano i battaglioni della milizia si sono assottigliati nella gestione completa. Quindi anche quella sorta di terza gamba, le legioni della milizia che dovevano essere riutilizzati come terzo elemento della divisione pariani secondo l'ordinamento sotto del 40, pure la toppa è quasi peggio del buco. Risultano così perduti 81 battaglioni pari a circa il 41% delle unità mobilitate e qui ovviamente sia per la gravità delle situazioni ma aggiungerei io anche per la poca cura nell'addestramento che già lasciava un po' il tempo che trovava nell'esercito propriamente detto, figuriamoci nella milizia in cui l'elemento un po' volontario, l'elemento un po' di ripianamento anche dei quadri con una gestione piuttosto alle grotta delle gestioni delle carriere, diciamo che in qualche modo evidenziava tante perplessità. Inoltre nei 116 battaglioni attualmente in armi un'aliquota degli effettivi che può valutarsi il 10% deve essere sostituita per la minore capacità fisica, il che porta l'accennata diminuzione al 47% della consistenza numerica iniziale dei riparti di guerra della milizia. Quindi diciamo che la relazione è anche peggiore di quella che può apparire. Se si tiene conto che per la costituzione dei 197 battaglioni sia impegnata l'intera disponibilità di reclutamento messa a disposizione dal Ministero per i reparti di guerra della milizia, si deve concludere che di questo ritmo se non si provvede a una ulteriore e adeguata alimentazione la milizia arriverà nel terzo o quarto anno di guerra all'esaurimento pressoché totale. E sappiamo come l'evoluzione della guerra porterà a una situazione assai critica, quasi come questa che viene prospettata, anche perché al quarto anno di guerra non ci si arriva neanche. Obietto che questa cifra non è da ritenersi esatta perché i battaglioni complementi non devono essere considerati e allora la cifra scende al 10%. Il solito Cavallero è assai ottimista e utilizza un po' i numeri come lo aggrada. Egli che era laureato in matematica, l'eccezione conferma la regola, la matematica è un'opinione e il Cavallero riesce a trasformare anche la matematica in un'opinione. Altri argomenti. Nuova legione rientrata dalla Grecia è formata con elementi delle camicenele divisionali, battaglioni per la vigilanza costiera, piccoli posti e pattuglie. Servizio temporaneo per due mesi in attesa della costituzione dei nostri 48, di cui 14 già in posto. Finora ne ha dati tre, ne devo dare altri tre e vorrebbe prenderli dalle divisioni. Non concordo. Galbiati dice che non vede legioni divisionali e aggiunge che la milizia deve essere impegnata solo nelle sue possibilità. E quindi qui arriviamo sempre al grande complesso problema degli organici e a maggior ragione degli organici legati a una differenziazione e questo ovviamente è una differenziazione anche a livello di unità combattente, non soltanto differenziazione tra elementi territoriali, quelle che saranno poi le divisioni costiere, le brigade costiere, ma anche a livello di forze combattenti tra milizia e reggio esercio con tutti i problemi ovviamente che sappiamo o almeno che andremo a capire meglio. Su questo canale abbiamo parlato molto, quindi per chi poi avesse delle perplessità poi ci torneremo. Sono temi fondamentali, il rapporto anche delle filiere di comando, degli antagonismi che esistono all'interno delle istituzioni militari e poliriche, ovviamente cose che sono all'ordine del giorno e tra l'altro che ho cercato anche di tratteggiare nel volume i gerarchi fascisti, in cui appunto i vari gerarchi che in qualche modo fanno un po' a livello mediano tra istituzioni militari di partito e regolari che è sempre il grande problema, uno dei grandi problemi del fascismo, parliamoci chiaro. Concordo, quindi su quest'ultimo punto Cavallero si trova a concorde con Galbiati e dico che la legione come terzo reggimento della divisione è un assurdo. Ecco, questa è la prova provata. Ecco, ripeto, concordo e dico che la legione come terzo reggimento della divisione è un assurdo e quindi va sostanzialmente a contestare quello che vi dicevo prima, nel senso che l'idea di Soddu nel 40 di andare a integrare la divisione binaria con un terzo elemento della milizia era stato assolutamente fallace e quindi se ne accorgono anche troppo tardi, nel frattempo hanno fatto la campagna di Grecia e hanno iniziato la campagna pure di Russia con una situazione assai difficile. Faremo i terzi reggimenti per le divisioni dei Balcani. Faremo. Con quali mezzi? Boh, non si sa. Bisogna però andare per gradi e lasciare frattanto le altre come sono negli altri settori, altrimenti si fanno confusioni e complicazioni. Quindi diciamo che se nei Balcani dove tecnicamente la guerra è finita, si va a integrare con un terzo reggimento va da sé che tutte le altre divisioni, ossia quelle in Africa settentrionale e quelle in Russia rimangono binarie, con tutti i problemi che rimangono. Quindi diciamo che a me personalmente mi sembra una scemenza, però vabbè che vi devo dire. Si viene alla... no scusate, chiamo il tenente Conello Fornara e lo incarico di esaminare il problema. Quindi diciamo... risolvi un po' quello che scapita. Si viene alla conclusione di provvedere mediante la costituzione di tre battaglioni con elementi presi dalle classi 1, 2 e 3, d'ora in poi Calbiati farà capo al Comando Supremo per le questioni della milizia. Va bene. Si guadagnerà tempo. Chi ha tempo non aspetti tempo, vabbè. I battaglioni M già costituiti, tre a Roma e due a Fregene, sono selezionati, ben addestrati, hanno fatto la guerra. Manca l'armamento. Quindi abbiamo delle truppe tecnicamente in efficienza, ma non hanno armi. Armi di accompagnamento anticarro e lanciapiamme. Abbiamo degli ottimi soldati ma disarmati. Io sono disarmato io a leggere queste cose. Vabbè, Calbiati chiede questi mezzi. Faccio presente la scarsità che abbiamo. Non si può avere tutto. Non si può avere truppe preparate e anche armate. O preparate o armate. Decidi tu, Calbiati, cosa scegliere. Il Duce è ordinato di formare 16 divisioni, ma lo Stato Maggiore ne può fare solo 6 e le altre saranno soltanto stanziali. Quindi se ci gioca rialzo. Allora, facciamo 16 divisioni, ma ne posso fare solo 6. Però in qualche modo, ma quelli altri sono disarmati, però sono ben addestrati. Quindi diciamo che, ripeto, si cerca sempre di andare a fare una sorta di mercato del pesce in cui uno dice una cosa e l'altro rilancia e in qualche modo cerca di zittirlo. C'è quest'altra cosa che però va bene così. Il concetto appunto della matematica è un'opinione secondo Cavallero. Ciò premesso, per andare incontro, chiedo l'elenco dei materiali occorrenti, facendo però presente che non vedo la necessità degli anticarro. In fin dei cori il carro armato non è un'arma che possiamo incontrare. In Africa settentrionale gli inglesi non hanno carri armati, quindi diciamo che cosa serve un'arma anticarro contro gli inglesi che abbiamo dimostrato che in Africa settentrionale non hanno carri armati. I sovietici non hanno carri armati, quindi a che serve un'arma incontro cara? Giustamente siamo contro questi nemici. A mio parere i battaglioni M dovrebbero essere tipo SS, polizia politica. Allora diciamo che diamo per scontato che Cavallero forse non sapesse, almeno speriamo che non sapesse cosa facevano le SS. Così, però lui che propone che i battaglioni dovrebbero essere tipo SS, le SS ci piacciono, quindi in qualche modo la polizia politica c'è il suo fascino, quindi in qualche modo l'arma di regime, già qui ci lascio un po' perplesso, risponde che lui intenderebbe, sempre Calbiati, dare invece le parti di guerra che però possono essere impiegate sempre per scopi militari. Quindi Calbiati da vecchio soldato dice no, no, io non voglio fare, non voglio reparti di polizia politico, voglio combattenti, voglio gente che va in maniera volontaria con lo sprezzo del pericolo, anche senza armi, anche senza armi anticarro, tanto quello sono addestrati. A mia volta dico allora che prepari i reparti M con caratteristiche di assaltatori, assaltatori nel senso come nella, come gli arditi nella prima guerra mondiale, col pugnale in bocca e con la bomba a mano, concorda e dice che ne vuole fare 100 in tre anni, 100 reparti in tre anni. Criterio dell'eccellenza Calbiati sui battaglioni M, alle battaglioni M stanno nella milizia come i carabinieri stanno all'esercito e come gli alpini stanno alla fanteria. Allora, che come è il discorso generale, ci può anche stare, ci può anche stare, peccato che capite bene voi, non serve che dica altro, cioè mi capite, so che mi capite, cioè ve lo rileggo. I battaglioni M stanno nella milizia come i carabinieri stanno all'esercito e come gli alpini stanno alla fanteria. È stato lapidario. Incarico Fornara di vedere se si può dare per i battaglioni M almeno qualche arma per l'addestramento. Quindi nel senso che i battaglioni M non hanno neanche armi per l'addestramento. Da quello che capiamo, speriamo di poter dire, sennò che usano i bastoni, le pigne, usano le pigne per... Io quando ho fatto la lea ufficiale a Cesano, quando facciamo un primo addestramento, un primo addestramento prima di andare al poligono, usavamo effettivamente le pigne. Quando ci devono spiegare come fare il lancio, perché ovviamente effettivamente era difficile. La prima volta che lanci una bomba e la lanci male rischi qualcosa. Quindi facciamo con le pigne. Ma magari era un metodo già utilizzato. Magari abbiamo noi adottato a Cesano il metodo del battaglione M. Poi ci può stare. Ricevo l'ammiraglio Farina, delegato generale della Commissione Armistizio per l'Africa del Nord in Algeri. Esame della situazione francese molto complessa. Weygan ha funzione di vicere e tratta con intermediari che finora hanno negato navi militari. Solo alla Germania hanno concesso un grosso rimorchiatore militare e dei cannoni. I 1200 aerei di cui disponevano prima dell'operazione in Siria sono ridotti a 400. In caso di offensiva inglese in Cirenaica, Weygan potrebbe spostare verso i noi 60.000 uomini con molti mezzi meccanizzati. La Marina in 7 giorni può mettere in efficienza le sue basi navali per giunta. Noi non abbiamo possibilità di controlli. Quindi qui si emerge un altro grande problema, quello delle relazioni con Vichy, con le relazioni con le truppe francesi d'oltremare, tutto quello che sappiamo della grande attitudine francese di trattare bene, trattare in maniera efficiente, in maniera collaborativa con i tedeschi perché li temono, mentre con gli italiani li consiglio pari a zero e quindi diciamo che veramente qualsiasi richiesta viene rimandata al mittente così a botta secca. 13 settembre, telefono a Squero, mentre stiamo estendendo al massimo la produzione di armi da 20, non si è studiato il modo di incrementare la produzione delle munizioni. qui diciamo produciamo armi senza munizionamenti, vabbè però la milizia ha elementi preparati. Ricevo Roatta, si prospetta l'invio in Sicilia di un comando di armata, dichiarazione di una parte la Sicilia come zona di operazione senza dare i poteri civili all'autorità militare. sappiamo Roatta Sicilia è un binomio, una carica esplosiva, lo vedremo poi negli anni seguenti. Il re metterebbe a disposizione un principe della sua casa, il duce concorda. Occupazione di Malta, se l'asse vuole può farlo, parere di Roatta. Infatti non si fa, un parere di Roatta non si è fatto. incarico il generale Magli di fare un telegramma a firma del duce al generale Nasi proponendogli un'energica uscita con tutte le forze puntando su Gondar. Quindi si prospetta il tutto per tutto in Africa orientale italiana. risposta, virgolette, vostro 1-2-7-2-6-5. Sono sicuro, questo è quello che viene mandato a Nasi, sono sicuro converrete Meco nel considerare che estremo a difesa ridotto Walkefit sarebbe molto più degnamente coronata da vigorosa sortita presidio anziché da resa per quanto onorevole. Ciò tanto più dopo promozione di quel comandante. Ma voi solo siete giudice situazione e dovete agire con piena libertà, giudizio e con piena responsabilità. Firmato Mussolini. L'onore militare porterebbe a fare questa scelta. Però valutate voi. Capite bene? Vabbè. 15 settembre. Ricevo l'eccellenza Gambara. Ecco un altro pezzo da 90. Argomenti. Generale Gauss propone investimento Tobruk per fine ottobre e ritiene tempo utile cessi a metà novembre. Progetti operativi Rommel. Corrispondenza con Rommel deve essere inviata tutta al comando supremo per conoscenza. Partecipazione del CAT. Corpo d'armata tedesco. Scusate, l'Africa Corp. Sostanzialmente. Alla protezione viroscafi tedeschi. Unità che possiamo portare una motorizzata viave. La lettoria non è pronta. Gambara propone una normale avanzata al Nilo. Una normale avanzata al Nilo. Che ci vuole? Richiede situazioni nel Medio Oriente che collabori con noi. Quindi nel Medio Oriente gli arabi devono aiutarci. Tutto fa. Tutto. Una rapida si può fare. Malta se vuoi si fa. Quell'altro se vuoi si fa. Quell'altro di certe fine conti non abbiamo armi ma colonnello non vogliamo il pane ma il sangue del mio nemico perché la fine dell'Inghilterra incomincia a jarabub. Va bene. Esamino i vantaggi di una presa di Tobruk. Possibilità di ritirarne le unità che ora sono molto esposte. Disponibilità del porto. Gere Gambara ritiene occorrerebbero però anche altre due divisioni. Quindi se non ci sono queste divisioni non è che si può fare tanto. Quindi tutta questa passeggiata di salute verso il nero. Rispondo che a Cirene l'8 agosto si è pensato anche all'impiego della massa mobile e pongo il quesito. Se a quell'epoca la situazione fosse favorevole possiamo agire anche con una sola divisione in più. Dice ce la fate? Mi sembra un po' il discorso dell'agosto-ottobre 40 quando si chiede a Visconti Prasca che c'è qualcuno che vorrebbe attaccare la Grecia con 18 divisioni ma se lui riesce con 9 anche con 8 e mezzo. Visconti Prasca dice come no certo cioè anche con 7 volendo. Gambara risponde niente da fare. Gambara è perentorio. Rommel veramente vorrebbe ancora una motorizzata e una corazzata. Chiedo a Gambara se con questo si può fare. Risponde affermativamente e allora concludo che bisogna inviare l'alettorio prima della piave. Dall'esame dei trasporti una divisione non ci starebbe però possiamo portarla facendo falcidia di elementi minori. Non si capisce cioè non ne entrerebbe però se non so che vogliamo togliere vogliamo togliere i cucinieri gli infermieri i medici non so forse solo le truppe combattenti perché che vuol dire falcidia di elementi minori cioè le unità logistiche non si capisce. Anche perché se non entrano che fai lì lì lì. Riprendo il colloquio. Argomenti. Questione del comando. Tobruk fino a Ingazala e territorio di Rommel. Gambara dice che l'azione dovrebbe comandarla Rommel e non è possibile mettere altro comando. Obietto che la massa sarebbe grossa per un corpo d'armata e occorrerebbero due settori con un corpo d'armata ciascuno e Gambara a sua volta dice che anche così il comando finirebbe sempre di essere in mano a Rommel. Gambara ha capito tutto in questo. Possiamo dire tutto di Gambara tranne che non abbia capito che Rommel più truppe gli metti vicino e più se le piglia. Nel senso che diventa lui il comandante di tutto. Quindi ecco perché poi Gambara nonostante sia contemporaneamente il comandante del corpo d'armata italiano nonché ufficiale di collegamento del comando superiore italiano dell'Africa settentrionale con il comando di Rommel ha capito esattamente tutto e dice sostanzialmente se fai un attacco con il corpo d'armata di Rommel e un altro corpo d'armata Rommel prende il sopravvento e comanda tutto. Quindi cambi delle truppe 4.000 al mese invio di 7.500 complementi non è servito per i cambi bensì a completare le unità. Quindi diciamo che tu hai mandato gente sperando che potessero tornare gli altri invece non erano sufficienti e quindi sono rimasti lì quelli che hai mandato più quelli che già c'erano prima. Quindi immaginate i poveracci che poi non avranno una licenza per anni, anni e anni. Quindi diciamo che vabbè. Alle 20 riprendo il colloquio con Gambara e Roatta al quale partecipano anche i generali For Rintelen e Gauss. Già Gambara e Roatta insieme fanno faville proprio. Rintelen esamina le condizioni e dice che la scorta per Benghazi è sicura. I piroscafi tedeschi saranno dati. Occorrono 90.000 tonnellate di materiali che verranno dati in settembre. Esiste perfetto accordo tra Super Comando Africa Settentrionale e Comando Rommel. Meno che tu su un punto su quale Già Gambara ha detto il suo pensiero e cioè che Rommel intende impiegare oltre alle forze per le spugnazioni due divisioni germaniche corazzate Africa Corps e una motorizzata italiana. Allora mi verrebbe da dire una tipica espressione romana in questi sensi. Nel senso di accidenti. Esiste perfetto accordo tra Super Comando cioè tra Bastico e Rommel tranne che nella gestione dell'operativa. E quello è. Non è che è un'altra cosa. Cioè quello è il problema. Se non sono d'accordo su quello non sono d'accordo su niente altro. Quindi la sola Gambara considera necessario avere oltre alle quattro divisioni una riserva per fronteggiare la reazione nemica da oriente. Quindi la sola tedesca che rimane è più una corazzata o motorizzata italiana. Non bastano. E quindi vuole ancora una divisione italiana corazzata. Quindi diciamo vuole di più. Quindi dobbiamo portarla dall'Italia per tempo. Forrinteren dice che Già Rommel ha già fatto uno studio per parare un attacco contro Sollum. Perché Rommel è sempre... sta sempre avanti in tutti i sensi. Si vende la pelle prima di aver ucciso l'orso. Quindi 25 settembre. Ricevo l'eccellenza Valle. Argomenti. Efficienza bellica della reazione. Dati statistici sugli apparecchi efficienti e su quelli in riparazione. Mantenimento della linea. Vabbè. Ai un audio. Mio colloquio con l'eccellenza Ambrosio che all'epoca è ancora il comandante della seconda armata in Slovenia e Croazia. Situazione ufficiale del reggio esercito invio di ufficiali ai corpi. Tutti quelli che non hanno compiti addestrativi negli enti dell'esercito. Ufficiali distaccati presso ministeri non militari. Ufficiale del ruolo M da impiegare nei comandi. Ufficiali delle commissioni. Ufficiali di Stato Maggiore fa bisogno 950. Disponibili 400. Recuperabili dai corpi 200. In sperimento non più di 100. Corsi Stato Maggiore per ufficiali di complemento. Possono dare 200 ufficiali per primavera. Appoggio presso la squadra di guerra. Riduzione della squadra di guerra ad un anno. Si cerca di fare una sorta di contabilità nell'utilizzo degli ufficiali che non sono mai sufficienti. Quindi in qualche modo diciamo facciamo gli ufficiali in maniera rapida perché qui non si riesce a avere un riciclo dei quadri. Ricevo l'ingegnere Rocca. Argomenti. Distribuzione in materie prime. Ansaldo non può contare su più di 5 mila tonnellate al mese. Navi di scarso pescaggio molto compartimentate. Poco vulnerabili ai siluri. Caccia sommergibili. Velocità 17 miglia. Cioè pari a quella dei sommergibili più veloci. Nave portaerei. Si spera di guadagnare 2-3 mesi. Nave portaerei. Criteri tedeschi in materia di marina da guerra. Carri armati. Quindi tutti argomenti. In qualche modo un purpurri di argomenti che come capite diciamo lasciano un po' il tempo che trovano. 27 settembre. Telefono all'eccellenza Apricolo. Argomento. Forza H. La situazione si delenerà in giornata. Situazione aeronautica in Libia. Quindi aveva parlato prima con Valle. L'ex cavo di Stato Maggiore adesso parla con Apricolo. Vediamo se i dati collimano. La situazione si delenerà in giornata. Situazione aeronautica in Libia. Occorre sua presenza a Colà. Subito dopo il viaggio in Germania dovrà avere abboccamento il 30. Quindi prima decade di ottobre. Ricevo l'eccellenza Fava Grossa. Sottosegretario poi ministro della produzione bellica. Argomenti. Ditte che lavorano per conto dei tedeschi in modalità di pagamento materiali di recupero delle navi e soneri reparti lavoratori di classi anziani. Pure qui argomenti di Maria Natura che in qualche modo però pure questi lasciano un po' il tempo che trova. Ricevo Gambara. Ecco ancora. Argomenti. Viaggio di Apricolo in Libia per la prima decade di ottobre. Sostituzione del generale Amonecat con il generale Marchesi. Comando dell'aeronautica in Libia. Contessa Ciano. Vediamo un po'. Sua aspirazione di andare in Libia come Croce Rossina. Vabbè. C'è anche questa. Telefono. L'eccellenza Apricolo. Argomenti. Cambio di Amonecat. Forza H uguale due incrociatori nemici affondati. Quattro colpiti. Vabbè. Alle 18 ricevo l'eccellenza Roatta. Argomenti. Fabbisogno autocarri. Autoraggruppamento di armata. Sostituzione di tre divisioni in Asia. Freda settentrana italiana. Gruppi da 75 a 46. Problema delle munizioni. Deficienza rispetto al fabbisogno. Soprattutto deficienza. Idee dell'eccellenza Gambara. Circa l'azione per la presa di Tobruk. E qui diciamo che abbiamo un purpurri di opportunità, di elementi che potremmo dire un po' confusi nelle prospettive. E sappiamo che quando c'è confusione Rommel si piglia tutto e va per la sua strada. Senza guardare in faccia a nessuno. E tutti rimangono dietro. Che tu sia appietato non gliene può fregar di meno. E quindi lui va avanti e prende Tobruk. In questo momento ancora non lo prenderà. Lo prenderà l'anno prossimo. Però in qualche modo va avanti per la sua strada. Senza crearsi troppi problemi di zavorre varie che esistono. Che siano a Roma o che siano a Tripoli. Detto questo. Come al solito vi invito a mettere mi piace. Iscrivetevi al canale. E alla prossima. Ciao.